Promuovere e rivalutare l'economia, il commercio, i servizi e la ristorazione locale tramite un'informazione attenta per il cittadino, così da aiutarlo e stimolarlo alla scelta sempre più mirata in tutti gli ambiti delle eccellenze del territorio. E l'obiettivo del progetto Idee sul Vassoio, promosso dall'Associazione Amici Torre di Montosolo di Pino Torinese e presentato a Palazzo Lascaris. La gente dovrebbe riappropriarsi del diritto di riuscire a scegliere qualità nell'alimentazione, riconoscere la qualità che va ben oltre al discorso cosa mi conviene magari a livello economico comprare. Impariamo a leggere le etichette, impariamo a riconoscere gli ingredienti e quando è il caso anche a posarli, a scegliere magari il prodotto vicino, meno pubblicizzato, meno carino come etichetta, ma effettivamente mi contiene sostanze che mi apportano nutrienti fondamentali per le mie cellule.